ciao ragazzi e ciao amici di telegram per te che ancora non sei unito al mio canale ti spiego velocemente perché questo video sul mio canale telegram e se ti vuoi unire il link sotto nella descrizione faccia nascere questi sondaggi in questi sondaggi dove sei tu a scegliere esattamente quello che il coach deve fare e tantissime altre cose sempre rispondendo solo ad un sondaggio come questo video che avete scelto voi questo sondaggio un'occhiata l'avete scelto quindi la risposta è stata molto chiara il corpo scontata di lei quindi ti mostrerò un video completo su come lavorare il core quindi dagli un'occhiata e tu allenati bene ci vediamo dopo ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.